Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ed eccoci per mostrare una nuova fantastica creazione realizzata con due common block in vanilla! Yeah! Stiamo parlando delle medieval weapons in Minecraft by Dread Engineer! Grazie! In questo momento ci troviamo nella bellissima mappa segreta di Soulbound Se non avete visto la nostra serie vi consigliamo di darci un'occhiata L'abbiamo appena conclusa Se volete sapere di più su questa mappa Comunque guardatevi almeno l'ultimo episodio fino alla fine Perché merita tantissimo Ma adesso concentriamoci su questo comando Che ci darà la possibilità di ricreare dei veri e propri assedi medievali Con tutte le macchine da guerra Sia d'attacco che di difesa Che abbiamo sempre voluto avere nei nostri mondi di Minecraft Perché alcune volte vengono aggiunte delle cose un pochino troppo futuristiche Mentre Minecraft ha una specie di mondo fantasy medievale Dunque queste potrebbero essere delle aggiunte in linea con il gioco E non vediamo l'ora di vederle in azione Per creare il primo oggetto dovete lanciare per terra 8 spruce e 8 lid E avrete la catapulta Ecco i proiettili Come non puoi usarli come proiettili Allora sono le teste Giusto Tagliamogli la testa Intanto si sposti buon uomo Se vuole abitare questa casa Tra poco non esisterà più Quindi per me va bene Si sposti Accidenti Fate via Appoggiate dove volete la vostra bella catapulta E guardate un po' che bella Sembra veramente una micro catapulta E la cosa che dà un tocco di genio a tutto questo È il fatto che è orientabile come volete voi Semplicemente mettendo sui lati dei bottoni di legno Per esempio Ehm No 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 Non sono sicuro che tu abbia capito Mi trovo da questo lato Ehi no A me si sta baggando Reddigi Abbiamo baggato anche il tuo comando Ci dispiace Ok ok è partito Scusaci Non so come ci siamo riusciti Ma come vedete Siamo in grado di trasformare un bottone In delle rotaie Semplicemente appoggiandole per terra E non c'è male Grazie a questi bottoni Quando li cliccherete Voi potrete Ruot Finché non lo baggate di nuovo Potrete ruotare la catapulta A meno che non siate uno dei due della love In quel caso non ve lo consiglio Ne mettiamo un'altra Magari funziona meglio Non so cosa io abbia combinato Ok lì funziona E lì no Va bellissimo in questa direzione Si teoricamente si Fate comunque finta La casa è di qua da distruggere Ok te l'ho fatta Guardate Finché riuscite a usarlo Vi permetterà di ruotare la catapulta In ben otto direzioni diverse Sia in senso orario che anti orario Ed è veramente fantastico Se non lo baggate Ora noi dobbiamo naturalmente Vedere le potenzialità Di questa bella macchina da guerra E per farlo Lanciate per terra Quattro pezzi di stone E due gunpowde E moltiplicateli Perché un solo masso farà ben poco Esattamente Avete sicuramente bisogno Di tanta pietra E tanta polvere da sparo Perché uno solo Poi dov'è il divertimento Quindi prendiamocene un pochino E di più E siamo pronti A lanciarli All'interno di questa catapulta Vediamo i surfetti Sopra anche I padroni di casa Mettine uno anche lì Così è più contento 3, 2, 1 Fate Q E Boom Guarda Come sei già nella fossa E si sia anche Rimpicciolito Nella fossa E si giusto Perché se no Non c'entrava dentro L'ha detto Facciamolo più piccolo Guardate Qui c'era un muro Ora Non c'è più Proviamo anche a lanciarlo Da questa qua Vediamo Ok Guardate Anche in diagonale È bellissimo Stiamo Devastando Questa bellissima casa Proviamo anche a vedere A qual è La velocità massima Per cui Usciamo ad attaccare Guarda Guarda A ripetizione Praticamente lancia dei creep Scusa Ma hai bucato Un pochettino il mondo No E lì ormai Non ci puoi lanciare più niente Mi schiace Ma No Dici che Ho esagerato Come sempre Eh sì Un pochetto Boom No ok Ho detto che c'è il buco Nel pavimento Non fate troppo Come faccio io Il troppo stroppia Anche quando Fate le cose in minecraft Adesso è tempo Di andare A difendere Quel che resta Della casa Ma perché Mi chiedo io E per farlo Dovemo vedere Quali sono gli altri Oggetti aggiunti Innanzitutto Noi possiamo buttare Per terra Un calderone Quattro stick E avremo Un fantastico Oil Coldron Ovvero Ovvero quei calderoni Pazzerello Pazzerello Ma che carino Guardate come Ho messo sotto I bersagli Ah l'hai già preparato Sì sì Prima che se ne vadano Attivalo E aspetta Lo spegniamo Dal lato giusto Magari Perché se no Non va bene Lato sbagliato Di nuovo Lato sbagliato Ancora È una specie di Ruota Della fortuna Ce l'ho fatta La ruota della morte Quando avete scelto La direzione giusta Togliete la leva Altrimenti non potete Far funzionare Il calderone E Prendete un flintestile E date fuoco Al blocco Intorno Al Al calderone Appunto Più tempo Voi tenete acceso Questo fuoco Più a lungo Il calderone Sputerà Olio bollente Vediamo un pochino 3 2 1 Spegniamolo E inizia Aspetta Li metto giusto Dove lo sta Li metto i giusti Poverini Guarda lì Non era la giusta Posizione La cosa bella Appunto È che Fa molto Molto male Vado in game mode Zero Sperando di avere Keep inventory Guardate Mi è bastato Un attimo Mi ha tolto Più di metà vita Ancora una volta Sotto E Sono morto Dunque Se uno facesse Una bella Sfida medievale Con Le catapulte Che inizia un pochino A distruggere il nemico E questi calderoni Che sputano olio bollente Potremo creare Dei veri e propri scudi Grazie al fatto Di piazzarne Più Uno accanto all'altro Grazie a questo fatto Infatti Potremo avere Delle piogge Delle cascate Che ci daranno Accesso a Delle super Valanghe Bollenti Accendiamoli Per un pochino E poi vedremo Quanto a lungo Riescono a durare Intanto Abbiamo un'altra Arma Che di solito Viene utilizzata Come difesa Ma potete anche Vederla come attacco Se riuscite A piazzarvi bene E si crafta Con un arco E otto stick E avremo Il crossbow Ovvero Una balestra Una balestra Gigante Da difesa Eccola qui Scegliete voi Dove piazzarla Direi che per esempio Questo posto Mai distrutto Potrebbe andare Benissimo Difendiamoci Le testificate Guardate che bella Allora Intanto prendiamoci Delle freccettine E mettiamoci vicini A questa balestra Dipendentemente Dalla direzione Verso cui state guardando La balestra Sparerà i suoi colpi E anche questa Abbiamo quindi Le tipiche Otto direzioni Di minecraft Proviamo subito Vi basterà Fare Q E lancerà La freccia Questo vi dà Accesso A una specie Di Arco mitragliatore Perché più Voi cliccate Cioè più voi Fate Q Vicino a questa Con le frecce Più velocemente Possibile Questo sparerà Quindi guardate Ah qualcuno l'ho preso Anche Oh che bello Dai Ammazza lì Muori Muori Guarda lì Qualcuno lo stiamo ammazzando In casa Muori E ho finito le frecce E ho finito le frecce Occhio Quindi ho dovuto mirare bene Perché se fate Q Nel posto giusto La prende Se fate Q male Droppate la freccia Non viene consumata Dalla balestra E semplicemente Dovete raccoglierla Successivamente Abbiamo anche Un altro oggetto O comunque in generale Una chicca Che potete utilizzare Se avete in mano Un arco E una torcia Infatti Voi potrete Tenendo nella Seconda mano La torcia Attivare il fuoco In tutte le frecce Che scoccherete Guardate Basterà Tenere la torcia Sempre con voi E a quel punto Tutto diventerà Infuocato Anche la balestra Ha preso fuoco Anche la balestra Può prendere fuoco In realtà Sì Perché vi basterà Mettervi A sparare Sempre con la Torcia in mano E guardate un pochino Le frecce Che prima erano normali Adesso sono Sfumate in frecce Infuocate E se Non sbagliate Come me Potrete uccidere Il testef Che tra la distanza E fargli flambè Senza Alcun problema A pari di flambè Proviamo A togliere il fuoco Mi raccomando Attenta A non togliere tutto Solo fuoco Ok Vai vai Stanno lanciando Ma non c'è nessuno Nessuna parte qui Ma dai Immaginatevela Se uno crea Il semplice di minigame O comunque tra amici Che si mettono d'accordo E riescono Senza laggare Completamente A fare Una battaglia De gene Per la conquista Del fortino Della casa Del castello Sarebbe veramente Bellissimo Grazie quindi a tutti Per essere stati con noi Fateci sapere Se vi è piaciuta Ci rivediamo Nel prossimo Fantastico comando Ancora complimenti a Red Per averla creata E Alla prossima Con Nietta Nave Ciao Ciao